il paradiso delle signore anticipazioni dell'episodio che andrà in onda mercoledì 23 ottobre 2024 agata annuncerà alle amiche che maria e matteo si sposeranno in primavera la forlan incontrerà botteri e si lascerà scappare un'affermazione che lo insospettirà circa l'esistenza di una spia all'interno del paradiso clara andando contro le regole di jerome il suo attuale allenatore che le ha impedito di stancarsi offrirà la sua collaborazione ad alfredo per provare il suo cambio su strada marta avrà un valore improvviso e perderà i sensi proprio sotto gli occhi di enrico una lettera di maria farà riavvicinare concetta e ciro iscrivetevi al nostro canale youtube l us la vera squadra perché abbiamo tanti contenuti su tutte le sop ma anche su tantissimi altri argomenti buona visione a tutti quanti